Ingegno Prestinoni, come va il Casinò di Sanremo? Qual è il punto della situazione? Tanti eventi, tanti spettacoli, ma anche il gioco ovviamente ha un ruolo importante. Dopo due anni direi che il Casinò è in piena fase di lancio. Adesso stiamo molto focalizzando una innovazione in termini di offerta di gioco. Per quanto riguarda la parte elettromeccanica abbiamo fatto alcuni investimenti. Abbiamo anche un'offerta importante di quello che è il gioco lavorato per tutti i clienti che si avvicinano al Casinò. Poi una strategia molto mirata e strutturata per gli eventi che presentiamo per i giocatori, per i nostri clienti, per soddisfare la clientela, ma anche per riuscire a trarre potenziali nuovi clienti e soddisfare anche i turisti e persone che si avvicinano al Casinò. Insomma non venite meno a quel ruolo che da sempre occupa il Casinò di punto di riferimento, anche di spettacolo, di cultura per tutto il territorio imperiesi. No, sappiamo la nostra responsabilità, quale volano turistico-economico della città, del territorio. Qua si fa un lavoro in sintonia con l'amministrazione comunale molto importante, condividendo le priorità e gli obiettivi e poi sviluppando le attività per la casa da gioco. Ingegnere Pestinori, anche un bilancio dal punto di vista economico. Gli incassi, nonostante il Casinò di Sanremo, abbiamo un bacino di utenza inferiore rispetto a altri Casinò italiani, però incrementa se non erro. Va bene allora? Sì, in questa prima parte del 2017 stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fin qui realizzato. Il mese di maggio lo abbiamo chiuso con una crescita del 3%. Direi che al mese di maggio il consuntivo ci vede con 18,5 milioni di introiti. Però direi che i bilanci si fanno però alla fine dell'anno, perciò noi siamo focalizzati a quello che è l'anno. Ci sono mesi con i loro punti di forza, ci sono mesi un pochino più complicati. L'importante è che il team riesca a capire qual è la realtà che stiamo lavorando, capire in quel momento anche quali sono i momenti correttivi, in modo tale di ambire il risultato annuale. Grazie a tutti.